salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video sicuramente avrete visto il video che ho pubblicato un po di tempo fa sulla mia connessione internet sulla alice 20 mega quel video dire il vero non ha avuto molte visualizzazioni però magari qualcuno di voi l'ha visto e faccio questo video per informarvi che ho cambiato gestore telefonico ho cambiato internet ho cambiato gestore e sono passato a fast web 20 mega la situazione è decisamente migliorata vi faccio vedere questa è la pagina del modem e così può vedere dalla larghezza di banda o 1.214 in upstream e 18.468 in downstream questi sono valori puramente indicativi adesso faccio uno speed test con tutte le applicazioni p2p software che utilizzano internet chiusa compreso anche steam origin e skype soprattutto questi tre facciamo uno speed test gli faccio scegliere il server casualmente in questo modo sceglie il server migliore come ping 29 ms download 15 mega quasi 16 diciamo che è notevolmente migliorato rispetto al mio precedente video e l'upload ragazzi l'upload è fantastico guardate l'upload guardate l'upload riesce a raggiungere un mega riesce a raggiungermi un mega un mega cioè è fantastico nel mio precedente video invece il ping era 27 mi pare se non erro quindi più o meno il ping era più o meno lo stesso il download è notevolmente migliorato 15.90 quasi 16 mega magari nel fra i prossimi giorni migliorerà ancora la connessione magari raggiungerò anche 16 17 mega senza dubbio e l'upload un mega un mega di upload cioè finalmente almeno 100 kilobyte al secondo facciamo lo speed test con le impostazioni però diverse anziché megabit in kilobytes che appunto fa vedere meglio i valori fa vedere gli stessi valori con cui effettivamente si caricano i file su internet oppure si scaricano i file da internet facciamo quindi uno speed test con questi nuovi valori faccio scegliere di nuovo un server casuale ping 29 ms lo stesso ping di poco fa il download il download 1900 1900 c'è 1.9 mbs quasi 2 megabyte al secondo praticamente quasi 2 megabyte al secondo e l'upload 100 finalmente almeno almeno 100 kilobyte al secondo che va bene 100 kilobyte al secondo sono non sono niente però comunque rispetto a 50 kilobyte al secondo che avevo prima che ho sempre avuto perché l'upload bene o male l'upload è sempre stato lì sin dai tempi remoti il miglioramento notevole è l'upload secondo me l'upload che finalmente riesce a raggiungere veramente un mega proprio un megabit non un megabyte attenzione non facciamo confusione e il download è quasi 2 megabyte al secondo 19.08 diciamo che siamo lì 2 megabyte al secondo più o meno facciamo adesso un ping test utilizzo firefox per fare il ping test perché stranamente con chrome non funziona questo test perché non lo so perché forse java non viene rilevato o qualcosa del genere comunque con firefox funziona quindi gli faccio fare il ping test con un server casuale automaticamente lui va a scegliere il server raccomandato il server migliore più vicino e migliore anche di prestazioni e di connessione ad internet dopo una rapida ricerca di server che sono soltanto tre quelli raccomandati quelli verdi mi va a scegliere il roma che è il più lontano fra gli altri due però vabbè non importa allora pacchetti inviati 2,50 pacchetti ricevuti 2,50 perdita pacchetti 0% ping 39ms 10ms in più rispetto allo speed test jitter 1ms 0 sarebbe la perfezione e il ping vabbè 39 diciamo che 10ms in più rispetto a questo comunque tuttavia siamo lì 29 39 siamo lì di ping siamo tra i 20 e i 40 magari quando scarico oppure gioco online il ping può variare non ho ancora giocato online neanche una volta con questa nuova connessione ma non dovrei trovarmi male cioè alla fine il ping è lo stesso identico che avevo con telecom 27 29 30 a volte arrivava anche a 40 50 il ping con telecom ora non mi ricordo nello speed test che ho fatto vedere su youtube quanto mi segnava il ping andiamo a vedere quanto mi segnava di ping in questo test 27ms mi segnava il download era 1500 quindi un megabyte e mezzo al secondo e l'upload 71 non arrivava neanche a 100 poi nel test in megabit il ping la 29 che è lo stesso identico che ho adesso con fastweb poi il download non andava oltre i 12 solitamente a volte ci arrivava pure a 14 15 le prime volte arrivava anche a 16 il download poi da qualche mese in qua si è fermato tra 18 e 13 e basta e l'upload si può vedere chiaramente in megabit questo sarebbe un mega qua è 0,58 quindi 0.40 in più adesso di upload rispetto a prima e non ho fatto il ping test in questo video non ci ho pensato non non avevo voglia non lo so comunque sia resta il fatto che il miglioramento di download è notevole da 1500 passare a 1988 quasi 2 megabyte al secondo beh devo dire che i valori sono più alti rispetto alla mia connessione presente con alice 20 mega il ping è lo stesso identico in conclusione spero di trovarmi bene con questa nuova connessione me l'hanno attivata stanotte però spero di trovarmi bene siamo sempre là ragazzi e finché non avremo le fibre ottiche caricherò pochi video molto pochi perché comunque sia 123 chilometri al secondo oppure prima 71 è sempre poco sempre poco detto questo alla prossima ciao a tutti ciao